qual è la differenza in un caffè nespresso è la sua origine da coltivazioni sostenibili e la selezione della qualità superiore sono le capsule in alluminio che ne preservano l'aroma è questa la differenza che assaporo quando scelgo nespresso c'è il caffè e poi c'è nespresso nespresso what else scegli il tuo nespresso in boutique o su nespresso.com la consegna è gratuita